1, 2, 3, Rai, vela d'oro novanto. Da Riva del Garda, in compagnia di Raffaella Terrà, Fabrizio Frizzi e Toto Cutugno, seconda serata dedicata alle anticipazioni sui programmi delle tre reti Rai per la prossima stagione televisiva. Un grande spettacolo, un menù ricco di personaggi e volti notti, indiscrizioni, progetti, assaggi stuzzicanti e naturalmente l'anteprima più attesa, Pippo Baudo e il suo fantastico. Salve! In diretta a Eurovisione. 1, 2, 3, Rai! Della d'oro novanto. Sabato 20 e 40, Rai 1.